allora ragazzi benvenuti o bentornati sul mio canale sono allenatore pokemon 92 oggi eccoci qui con un nuovo video spacchettamento e siamo su pokemon 151 con la collezione di alakazam ix allora noterete qualcosa magari cambio di luci cambio di scene cambio di di qualcosa andiamoci ad aprire mi piace la compattezza con cui è stata realizzata questa questa confezioncina ci sono tre diciamo carte promozionali quella di abbra e quella di cadabra che ricordano un po la cosmolo dei set vecchi di pokemon dei primi set pokemon e alakazam ix sto sfaldando senza aprirla sostanzialmente oggi samantha non partecipa ecco mi manda anche a quel paese dalla distanza sempre con amore se la ride se la sghignazza ci siamo riusciti eccola sentite va faccio vedere sì ma se non inquadro eccola bene sì perché ho messo di là come vedete ho messo anche una ring light come vedete riflesso sui miei occhiali che sto andando sto diventando cieco e devo dire che però merita per quanto mi riguarda eccoci allora allora partiamo da questa parte che è un po è arrivata samantha è che io non ho un gli sostanzialmente quindi codicino per voi devo dire si vede davvero molto bene prendiamo le tre promozionali ce le andiamo a vedere tutte e tre allora intanto intanto da samantha ci facciamo iniziare a spacchettare ad aprire così questi quattro pacchetti di pokemon 151 che rispetto ad altri set recenti ragazzi è un set che pulla abbastanza poco io sono stato fortunato nel primo etb quello che dove al primo pacchetto trovai charizard primo pacchetto sì secondo pacchetto blastoise o viceversa comunque andiamo a vedere io partirei da abbra dietro la roccia veramente carinissima con questa allora la carta è come la carta di pokemon 151 normale solo con questa cosmolo particolare che a me piace particolarmente cadabra anche questa cosmolo fantastica sto facendo caso se ha o meno uno swirlino non ne vedo sostanzialmente si qui vedete lo swirl qui e paradossalmente il pokemon a cui è dedicato che alla kazam è l'illustrazione che tra le tre mi piace di meno questo è di arita se non ero si arita secondo me potrebbe dedicarsi non so cosa pensi tu però secondo me potrebbe dedicarsi un pochino me le parti tutte e quattro mamma mia che qualità ragazzi vedete me ne ha già sbustati dobbiamo solo aprire ma eccoci qua e via vanno dappertutto devo abituarmi a guardare in quella direzione non dritto però questi sono dettagli codicino che vi lascio davvero super volentieri trick a 1 e andiamo a vedere e andiamo a vedere raggio a base tangela grimer signac e cannes seeking butterfree la prass è bellissimo la prima reverse charmander che si beccherà qualcuno ero d'actyl devo dire con questa redactyl mi piace particolarmente e electrode nulla però ci posso stare anche butterfree molto molto carino ricorda molto come veniva disegnato nei cartoni animati all'epoca su su italia 1 ovviamente secondo pacchettino per noi devo dire che già siamo un metà spacchettamento praticamente vabbè queste collezioncine sono belle sono belle rapide anche da spacchettare sono carine però si spera sempre che ci si pulli qualcosa dentro per carità pull ovviamente non è garantito a maggior ragione che non è un box ovviamente essendo un set come 151 che è un set speciale energia magnemite che è nella centrale elettrica come vedete giustamente sta facendo tra virgolette il suo lavoro caterpie che si arrabbica sul ramoscello carino ivi bellissimo grimer hunter goldak pincer molto bello sembra che stia aspettando quasi un attacco per da cui difendersi elio fossile uh qui abbiamo un pulletto ragazzi vediamo 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 oh machok bello machok che aiuta nelle faccende nel nel trasloco bello molto molto bello oma star in fondo al mare che richiama anche l'illustrazione di omanite andiamocelo a vedere un po' questo machok davvero carino questa compagnia di machok che traslocatori guardala molto molto non ho visto il retro è messa abbastanza bene si abbastanza bene si un po' decentrale stampano col culo e ciao bambini terzo pacchetto ragazzi è la verità non posso iscrivetevi al canale anche voi bambini mi raccomando codicino per voi terzo e penultimo pacchetto un pullino c'è stato bello tra l'altro molto bello seal dodo che è in movimento come vedete tentacle ciao bambini rattata bellissimo che attraversa su un ramo cosa attraversano scusate un ruscello sembra si vedi carino itmonchan che si sta allenando sotto al sole bello questi disegni che hanno fatto ragazzi sono un qualcosa di fantastico avete notato e sarà cambiato anche l'audio spero in meglio perché sto usando un meteor il samson che avevo a casa e questo microfono che mi piace Mewtwo come prima reverse poliwag bellissimo nello stagnetto nel ruscelletto che si fa il bagno guardate questa questo disegno di Mewtwo e il dettaglio di poliwag mamma mia jolteon bella ovviamente non è un pull però carino carino proprio i disegni che hanno fatto ragazzi è un qualcosa di eccezionale ultimo pacchettino che va a completare questo video di già ragazzi spero che vi sia piaciuto comunque spero in un altro pulletto ragazzi caspita sarebbe sarebbe figo trovare un altro pull in una collezioncina così piccina dai dai portaci un po' di fortuna porca miseria energia base ghastly quindi abbiamo trovato ghastly hunter in questi in questi pacchetti paras bellissimo voltorb che sta lanciando un attacco crabby che non so se ha il motivo per cui abbia scavato qui la buca polirat pidgeot bellissimo omanite normale in questo caso normale quindi la forma diciamo prima abbiamo trovato l'omastar questo è l'omanite l'atmosfera dell'evoluzione più cuba come avete visto marowak bellissima reverse ragazzi non l'avevo ancora mai trovato nei pacchetti che ho aperto finora doduo uuuuh abbiamo una ix avevamo trovato l'altra ix di charizard ovviamente non l'alternate art l'altra diciamo la full art eeeh ragazzi non male non male cioè davvero non ci possiamo lamentare vi stavo dicendo i pool di queste collezioni sono sempre anzi i pool di 151 in generale sono sempre quelli che sono queste un po' decentrate sono un po' decentrate però dai charizarddx machok eeeh eeeh alternate art quindi non non mi lamenterei ma per niente proprio in più abbiamo le promozioni che già mi sono perso dove le abbiamo le promozioni eccoci dalla regia ci aiutano eeeh ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto e che mi sono divertito ci siamo divertiti rispetto al video che abbiamo fatto lo scorso con Sebusini abbiamo trovato un pool qui collezioncina eeeh ciamica eeeh iscrivetevi al canale bella e alla prossima dal vostro allenatore 92 e Samantha ciao ciao